buongiorno a tutti allora oggi è sabato 16 dicembre 2023 sono le 11 meno 10 e mi tocca fare questo video perché obiettivamente c'è gente in internet che secondo me non sta bene troppo di testa allora vi spiego cosa è successo in pratica ieri sono stato alla trasmissione di border night intitolata ci rubano la terra e mi trovo una domanda nei commenti degli utenti che stanno seguendo che tra l'altro a cui non sono riuscito a rispondere in nessun modo perché non mi accetta i commenti che dice sulla in pratica dove è stata fatta questa domanda quindi nella trasmissione di favretti non riesco a capire come mai i miei commenti non vengono memorizzati perché volevo rispondere lì però siccome non ci riesco faccio questo video che così rendo meglio l'idea di cosa è successo questo eneasicael 3272 dice ho posto quella domanda a cui non mi è stato risposto né sì né no per il seguente motivo tempo fa nei commenti di un video di video giannini tra l'altro giannini già il cognome sbagliato quindi non so neanche se parla di me di giannini io e un altro utente abbiamo quindi io un altro utente abbiamo posto i nostri dubbi sul fatto che le luci riprese nel cielo notturno nel suo detto video potessero essere ufo personalmente non credo che gli alieni presupponendo che esistano da qualche parte visitano la terra i nostri giorni quando l'altro utente ha affermato che secondo lui le luci erano dei semplici satelliti artificiali giannini prima lo ha sbeffeggiato iniziando un discorso che oggi ha portato alla mia domanda per poi cancellarne i commenti volevo dei chiarimenti ed ho colto l'occasione per chiederle allora intanto il modo che hai usato per chiedere chiarimenti lo potevi fare benissimo sul mio canale youtube perché se tu hai visto i miei video sul mio canale youtube non vedo perché devi venire qui sul canale di Fabretti a fare queste discussioni primo secondo ho cancellato i commenti perché le domande le problematiche che mi erano state poste dal tuo amico lì quello lì che stavate discutendo di questa cosa quello che diceva che secondo lui erano satelliti a una risposta nelle mie risposte ho messo un video quindi gli ho detto guardati questo video e vedrai che quello che stai dicendo è una maria di lo dico stronzate lui non ha guardato il video non ha guardato il video e ha continuato a sostenere la sua tesi perché non ha guardato il video? perché io sono buono e paziente però sono anche un po' stronzetto quando mi ci metto il video era di 25 minuti e la parte che gli interessava era verso i 18 e giù di lì a 18 minuti di quel video si vedeva proprio che questa lucina faceva delle cose che un satellite non può farle cioè un satellite è impossibilitato a farle ma non l'ha visto ha continuato a sostenere la sua tesi quando glielo ho fatto notare è andato avanti ancora a sostenere la sua tesi allora ho cominciato a cancellargli i commenti il video si chiama quello che potete trovare nel mio canale mi sembra vg osservazione integrale adesso ve lo vado a prendere ve lo dico di preciso un attimo allora il mio canale video andiamo giù ed è esattamente ecco si chiama video completo dell'osservazione del 05 07 2021 ecco questo video porta porta delle delle prove che fanno capire che quegli oggetti non sono satelliti e sono altro poi se volete venire a rompere le scatole fuori contesto mentre si sta parlando di altro per far vedere che esistete accomodatevi non ho nessun problema però a questo punto il video ve lo linko qua sotto adesso sto per andare a copiare il link lo linkiamo qua sotto così siamo tutti contenti ma io dico ma ma davvero ma ragazzi se io mi metto a cancellare i commenti è perché ho capito che ho davanti una testa di cazzo fondamentalmente che non vuole approfondire le cose perché innanzitutto innanzitutto non è neanche una domanda da fare perché se ti interessa l'argomento io argomento UFO parlo sul mio canale ho boh forse 30-40 video di cui più di due terzi li ho fatti io personalmente non è che sono video che ho preso da internet o via dicendo altri li ho recuperati dalla rete che mi sembravano interessanti e ho confezionato una playlist che si chiama UFO quindi già guardando quella playlist insomma uno ha un'idea se la fa non può venire qua a dire ah no sono satelliti e tu chi sei per dire che sono satelliti quanti ne hai visti voglio vedere io quanti satelliti hai visto questo qua magari li vede perché ogni tanto quando porto la gente a fare gli avvistamenti mi dico ah ma io questi li ho sempre visti questi sono satelliti faccio no e gli dico no guarda che non sono satelliti e gli spiego perché non sono satelliti e andando avanti con le osservazioni questi oggetti fanno delle cose che i satelliti non fanno ma ci vuole avere quella che si chiama un attimino di pazienza e curiosità però se tu vuoi nascere già imparato e devi restare imparato e gli altri devono disimparare per essere come te allora purtroppo non mi rimane alternativa che cancellare i commenti ma non mi stupisce questo perché questo qui ok questo che di cui non sappiamo il nome perché l'ho cancellato dal canale no mentre Aena Zika L3272 da quello che ho capito io mi critica perché ho cancellato i commenti di questo tizio glielo sto spiegando ma sto tizio a cui sto rispondendo adesso sul mio canale ha fatto una cosa secondo me di bassa lega cioè a venire ad aprire una discussione sul canale di Fabretti su una cosa del genere che non c'entra assolutamente niente con quello di cui stavo parlando e di lui di questo qui non posso dire tanto ma sono gli altri 4 che gli ha messo mi piace che mi preoccupano vabbè comunque la cosa è andata così chi volesse vedere i video in questione c'è il link del video che ho mandato a sto tizio che di cui non sappiamo più il nome perché l'ho bloccato che porta le prove che questi oggetti non sono satelliti e che lui non ha visto perché ha continuato a sostenerla a sua tesi anche dopo che gli ho linkato questo video per il resto potete andare a visionare sul mio canale youtube tanto la monetizzazione non è attiva quindi pubblicità non ce n'è potete divertirvi i video durano più o meno mezz'ora l'uno quindi avete da avete da da vedere più o meno o penso 6 ore 7 di riprese col visore notturno pensate solo alla fatica di tenere il visore che pesa 3 etti puntato verso il cielo buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.